Quasi trent'anni dopo il V-Day, il giorno in cui i villain hanno vinto, Ellen Black si trasferisce al The Honor, una biosfera urbana di 161 piani, situata nel Nex Midtown Manhattan. Quando il dottor Brian Mizuno, il vicino curioso di Ellen, le chiede cosa l'abbia portata lì, lei allude in modo criptico ad alcuni problemi con Nex. Lisa Cartwright è al suo primo giorno come analista di sicurezza per la Panopticog Solutions, una società privata di sicurezza ingaggiata dallo S.H.I.E.L.D. per monitorare i residenti dei The Honor senza il loro consenso. E proprio lei scopre rapidamente che Ellen Black non è affatto chi dice di essere. La devo impiegare. Che c'è? Sto ascoltando la nuova serie Audible original italiana Marvel Wastelanders Black Widow, la terza storia Marvel Wastelanders. Con la voce di Lella Costa come Ellen Black è una produzione audio fantastica, praticamente ambientata in un futuro distopico dell'universo Marvel. e la potete ascoltare adesso su Audible.